Buongiorno carissimi, la prossima domenica, il 27 settembre, sarà la 26esima domenica del Tempo Ordinario, anno a rapprogrammato un Vangelo tratto dal 21esimo capitolo di Matteo, versetti dal 28 al 32. Nelle settimane precedenti a questa domenica la liturgia non prevede l'inclusione di tutti i brani precedenti a quello proprio di questa domenica 27, cioè è come se abbiamo un salto in questo cammino all'interno del Vangelo di Matteo. E allora contestualizziamo brevemente. Innanzitutto, ecco, Gesù ha fatto un gesto profetico importante, entrando nel Tempio ha rovesciato i tavoli dei cambiavalute, dei venditori, e le sue parole forti sono state Poi c'è questo discorso che fa sul fico e dice dell'importanza della preghiera e di pregare con fede, dopodiché ci sono alcuni, in particolare il testo dice capi di sacerdoti e anziani, che fanno una domanda a Gesù sulla sua autorità. Con quale autorità lui nel Tempio si permette di fare certe cose? Con quale autorità si permette di dire certe cose? Domanda che in un modo o nell'altro anche noi possiamo farci nella nostra vita, di fronte alla parola del Signore, a quello che nel Vangelo ci sembra fin troppo esigente, con quale autorità ci può venire chiesto questo, no? Dopo questa disputa con quale autorità Gesù dice queste cose e i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo rispondono Non lo sappiamo perché la loro è una risposta di comodo, non è una risposta sincera, ma semplicemente per non essere scoperti da Gesù nella loro mancanza di fede e per non essere contraddetti dal popolo, che la pensava diversamente sia su Gesù che su Giovanni Battista, figura che rientra anche in questo brano di Vangelo che inizia proprio al termine di questa disputa sull'autorità di Gesù. Ecco, quindi Gesù è già rivolto a queste particolari categorie di persone, gli anziani del popolo e i sacerdoti, ma è presente anche un altro gruppo di persone che nel brano precedente viene detto la folla. Ecco, c'è la folla, ci sono gli anziani del popolo e i sacerdoti. E inizia con la parabola. Innanzitutto la parabola ha un incipit molto importante, che ve ne pare? E' vero che ogni parabola e ogni parola di Gesù suscita una risposta, in questo caso sembrerebbe che Gesù attraverso questa formulazione la vuole suscitare ancora più fortemente, devi dire che te ne pare di quello che Gesù sta per dire. Una espressione identica è stata applicata nel Vangelo di Matteo quando Gesù parla della cosiddetta parabola della pecorella smarrita. Ecco, ma in questo, torniamo al nostro contesto, che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, e qui già la parola un po' ci, come dire, ci stupisce perché un uomo aveva due figli e subito pensiamo al padre misericordioso, il figlio prodigo, il figlio più grande. Invece no, è un altro contesto, è un'altra parabola. Un padre che ha una vigna, evidentemente, perché lì invita i figli a lavorare. Eppure tutti i suoi figli hanno un problema con questo lavoro nella vigna. Ecco, il riferimento che c'era anche nel Vangelo di domenica scorsa e che ritroveremo anche più avanti nei Vangeli domenicali di quest'anno. Cioè, c'è un problema, perché c'è un primo figlio che dice, non ne ho voglia. L'invito di Dio, l'invito di Dio attraverso Gesù, che pronuncia questa stessa parabola, il porsi di fronte alla sua volontà, si scontra con la volontà, con la voglia dell'uomo. Un combattimento importante, qualcosa su cui, davvero, mettere a fuoco la nostra vita, le nostre parole, i nostri atteggiamenti. Molto complesso e molto difficile. Rendersi conto che molto spesso Gesù e il Vangelo non è secondo la nostra voglia. E allora lì c'è un combattimento. Ci vado o non ci vado? Non è quello che mi aspettavo. Lo voglio e non lo voglio. Ecco, un atto di volontà, rispetto a ciò di cui si avrebbe voglia. Molto interessante questa dinamica che viene descritta. E ancora, c'è un pentimento, quindi un cambiare di fronte alla parola, un far sì che questo invito non rimanga solo considerato nel suo primissimo ascolto o nel primissimo momento in cui si è sentito, ma accettare che questo invito possa penetrare, essere maggiormente meditato, può produrre un cambiamento. È importante il cambiamento. Viene visto come ancora più importante del dire di sì. C'è poi questo secondo figlio e dice lo stesso. Risponde, sì, signore, ma non vi andò. C'è anche qui una differenza tra il dire e il fare. Cosa può aver spinto questo secondo figlio a dire una cosa ma poi farne un'altra? Ecco, forse c'è una visione della paternità distorta, in cui il padre va compiaciuto in qualche modo. Non si vuole avere contrasti con lui, quindi do quella risposta che lui si vuole sentire dire, so qual è la risposta giusta da dare, ma in fondo c'è un'altra verità dentro di lui. Ma poi emerge che quella che era la sua parola, e chi lo sa, forse anche quella che si illudeva fosse la sua intenzione, magari si illudeva anche sinceramente che quella fosse la sua intenzione, quella di fare la volontà del padre, quella di lavorare in questa vigna, poi non è quella che davvero viene portata a termine. È veramente complesso quello che succede nel cuore dell'uomo, è veramente complesso quello che succede anche nel nostro cuore. E di qui la domanda di Gesù. Chi ha compiuto la volontà del padre? Una domanda che dovrebbe contraddistinguere la vita cristiana. In qualche modo Gesù è la vera risposta a questa domanda sul compiere la volontà del padre. È lui che la compie davvero. Porre la valutazione di tante cose della nostra vita nella misura in cui sono volontà del padre. È difficile porsi questo come priorità, la volontà del padre. come davvero metro, misura delle cose. Noi lo diciamo spesso, sia fatta la tua volontà, è quello stesso padre a cui ci rivolgiamo. Ma poi, chiederci davvero qual è la volontà di Dio su questo, può essere molto difficile. Può richiedere troppa attenzione. Può richiedere un pensiero che esce troppo da noi e dalle nostre categorie. Quindi può essere scomodo, difficile da portare avanti. La risposta è il primo, interessante. Anche qui si dà la risposta esatta. Si dà la risposta che evidentemente l'interlocutore ritiene esatta nel suo atteggiamento, nel suo parlare e che si voleva sentir dire. Questo è lo stesso atteggiamento del secondo figlio. Dice quello, dice una cosa, per compiacere dice una cosa, ma non è quella che fa direttamente. E qui, Gesù vuole spiazzare l'uditorio. E se lo vogliamo ascoltare, vuole spiazzare anche noi. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Tu accetti che una prostituta sia considerata più di te nella logica del regno di Dio? Immaginiamoci anche questa scena. Ovviamente, sapete, il regno di Dio non è un concetto che è relegato solo nella vita ultraterrena, ma anche che coinvolge la nostra vita terrena, no? Però, figuriamoci solo la parte del paradiso, no? Come se dovessimo farci questa figura. Ovviamente qui sto facendo, sto dando solo un'immagine, attenzione. Un'immagine, no? Come se ci fosse una sorta di classifica, oppure se ci presentiamo, se presentiamo ai nostri occhi una specie di, come dire, di paradiso, così come è descritto nella Divina Commedia, no? Se ce lo immaginassimo. Ovviamente sappiamo che è inimmaginabile, va al di sopra le nostre categorie. Come se ci fossero delle categorie maggiori e minori, e noi ci figuriamo che davanti a noi ci sono delle prostitute. Io penso che non per nessuno è facile mandarla giù. Allora che fa Gesù? Dice delle cose strane? Dice delle cose false? Tira fuori solo effetti speciali? No. Poi spiega. Giovanni il Battista chiamava gli uomini alla conversione, per accogliere il Messia. Giovanni il Battista parlava di una giustizia che è la giustizia di Dio. Giovanni il Battista con la sua parola stava invitando, provocando le persone e stava dicendo che era importante credere, era importante affidarsi, che era importante credere che era giunto il momento di cambiare vita. Ci sono state, e lo sappiamo anche dal Vangelo, pubblicani e prostitute che, ascoltando la parola di Giovanni il Battista, hanno cambiato vita. Ci sono state brave persone, se così vogliamo dire, così come potrebbero essere intese oggi, conoscitori della religione e della legge, persone che si sentono moralmente a posto, che hanno ascoltato Giovanni il Battista, hanno ascoltato Gesù e hanno concluso che nella loro vita non c'è nulla da cambiare. Avere un atteggiamento di conversione, essere aperti a una trasformazione da parte dello Spirito Santo, essere pronti per ricevere questo dono di un cuore nuovo, dove siamo noi in questa dinamica? Siamo in una fase di non voler essere messi in crisi in nessun modo? Siamo davvero aperti al cambiamento? Il nostro esame di coscienza è un esame di coscienza in cui siamo così bravi che ci troviamo pure i peccati, anche se siamo bravini? Oppure davvero c'è nel nostro cuore una sete di ritrovare radicalmente la bellezza di Gesù che anche coinvolga, trasformi la nostra vita? Ecco, noi non sappiamo che fine hanno fatto tutti i pubblicani le prostitute del tempo di Gesù, quanti davvero gli hanno creduto, quanti hanno cambiato vita. Noi non sappiamo dei sacerdoti e degli anziani del popolo quanti si sono convertiti alla parola del Signore. Ma noi possiamo sapere qual è la nostra risposta oggi. Noi possiamo sapere quanto ci lasciamo coinvolgere, perché noi possiamo porre molti tipi di scuse di fronte alla proposta forte e sconvolgente del Vangelo. ad esempio potrebbe essere ma io sono un peccatore, ma io ho tanti difetti, ma io non ce la faccio ad essere perfetto. E infatti qui si parla di ascoltare davvero, non di essere perfetti. Si tratta di avere una disponibilità a essere messi in crisi, accettare che non è tutto a posto e tutto perfetto quello che stiamo facendo. Ecco, spogliarsi delle scuse. Tutti abbiamo bisogno di questa trasformazione divina, di questa conversione. E il pentimento, ecco, viene da aver visto qualcosa. Cioè, ci possono essere nella nostra giornata, nella nostra vita, dei doni speciali. Cioè, cose che abbiamo potuto vedere, cose che abbiamo potuto persone straordinarie, che nel loro vivere comunemente ci hanno mostrato uno stile di vita nuovo. Possiamo aver avuto accesso a degli insegnamenti molto importanti, possiamo aver avuto delle testimonianze di santità molto lampanti che ci sono passate davanti agli occhi. eppure questo, al di là di una piacevolezza momentanea, potrebbe non cambiare davvero la nostra vita. Poi noi potremmo rimanere tra i quali. Invece, specchiarsi in questi doni del Signore e capire che c'è bisogno di una trasformazione, chiedere al Signore con tutto il nostro cuore di essere da Lui trasformati, può davvero cambiare la vita e farla più bella. E questo ci consentirà di comprendere sempre di più qual è tutto l'amore e il bene che noi possiamo ricevere in Gesù. Ci vediamo presto.